Musica Picentini, 11 minorenni arrestati dai carabinieri per rissa gravata e lesioni gravi Monte San Giacomo al via il 1 agosto il secondo PUC per i percettori del reddito di cittadinanza Sala Consilina, scuola di sicurezza stradale per i bambini dell'infanzia di fonti consegnate le patenti e i diplomini del piano estate Risvegliare il giorno, il libro di Lucia Giallorenzo consegnato al direttore della banca Montepruno Michele Albanese, un inno alla vita per affrontare le sfide più dure San Pietro Altanagro torna il torneo di calcio tra contrade l'iniziativa promossa dal Forum dei Giovani per lanciare un segnale di ripresa Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale in apertura la cronaca Stamattina 11 ordinanze di custodia cautelare di cui 9 di collocamento in comunità e 11 di permanenza a casa nei confronti di altrettanti minorenni dei picentini Lo scorso 22 aprile hanno partecipato ad una rissa e sono accusati a vario titolo di rissa aggravata, lesioni gravi ai danni di uno dei partecipanti Tutti i dettagli nel servizio Spregiudicati e convinti di restare impuniti per il fatto di non essere maggiorenni hanno premeditato l'aggressione arrivando armati all'appuntamento e picchiato una vittima un ragazzo 16enne fino al punto di provocargli con un bastone lesioni permanente al cervello e la fotografia delle due bande di minori protagoniste della rissa avvenuta a Giffoni Sei Casali lo scorso 22 aprile Sono state oggi 11 le ordinanze di custodia di cui 9 di collocamento in comunità e 2 di permanenza in casa nei confronti di altrettanti minori la maggioranza dei quali residenti nella zona dei comuni picentini accusati di aver partecipato alla rissa Le indagini riguardano anche dei maggiorenni per i quali è stato necessario aprire un altro filone di indagine La maggior parte dei ragazzi coinvolti aveva tentato di fuggire ma le indagini dell'arma hanno consentito di arrivare all'identificazione dei componenti Tutti i dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa presso la procura del Tribunale per i minorenni di Salerno Parliamo degli altri ragazzi che sono famiglie assolutamente per bene dove vige una totale serenità dove i genitori hanno tranquillamente un lavoro non ci sono problemi economici dove però tuttavia sono appunto nate queste questa sorta di di follia che ha coinvolto questi due gruppi di ragazzi che come è stato detto ampiamente sono andati a un appuntamento con la consapevolezza che è stata piena di avere una rissa, di uno scambio, di una sorta di resa dei conti si sono organizzati con delle arbi, con degli strumenti atti a offendere quindi sapevano perfettamente quello che andavano a fare anche lo stesso bastone insanguinato e spezzato che poi è stato spezzato sulla testa di uno degli undici arrestati oggi che è anche quello che poi ha subito le lesioni ma che ovviamente era anche lui membro della rissa è stato portato sul posto, non è stato trovato lì per caso quindi c'è stata questa forte permeditazione Abbiamo trovato anche un'arma durante le perquisizioni? Abbiamo trovato due coltelli a scatto e una pistola a pallini scusate, una pistola a scacciacani quindi diciamo a salve ma priva di tappo rosso e sono una pistola assolutamente identica in tutto e per tutto alle armi in dotazione a noi forze dell'ordine Per il comandante dell'arma Gianluca Torombetti la conferenza stampa è stata anche occasione per lanciare un messaggio sociale al fine di spingere per la prevenzione più che per la repressione Il messaggio sociale che deve passare è quello di una funzione preventiva di questo intervento come spesso detto in altre circostanze e a maggior ragione per quanto riguarda l'aspetto dei minori che sono degni di assoluta tutela da parte dell'ordinamento l'intervento di repressione è sempre un intervento di chirurgia d'urgenza che elide momentaneamente il problema perché taglia alla radice una condotta delittuosa ma l'aspetto più preminente che oggi vorrei sottolineare è appunto il messaggio che si vuole lanciare con un'individuazione di responsabilità che ha visto poi lavorare l'arma dei carabinieri con l'autorità giudiziaria e che ha portato poi a chiarire la dinamica di un'aggressione particolarmente violenta che c'è stata nel comune di Giffoni un aspetto che mi ha particolarmente colpito dell'intera vicenda è che uno dei minori addirittura non aveva neanche minimo timore delle forze di polizia tant'è che quasi con un affronto ha detto aspetto che vengano tanto non ho timore ecco questa è una cosa a cui è importante fare riferimento perché la legge chiaramente si applica nei confronti di tutti come diceva giustamente prima l'autorità giudiziaria ci sono delle forme di maggiore istituzione nei confronti dei minori perché viene accordato dall'ordinamento maggiore protezione a una fascia che comunque è debole ma l'intervento dello Stato in questa circostanza è stato tempestivo è stato diretto è stato necessario continuiamo con la cronaca i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agropoli e della stazione di Matinella hanno denunciato due soggetti per coltivazione di sostanze stupefacenti curavano un appezzamento di terreno di loro proprietà su cui insisteva una coltivazione di cannabis indica nell'ambito dell'attività sono stati sequestrati nove chili di sostanza stupefacente e materiale vario per la coltivazione e il peso della droga e continuano i controlli anti-assembramenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Salerno i militari sono intervenuti durante un evento tenuto in un noto locale del centro del capoluogo dove intorno alla mezzanotte si erano radunati oltre 400 tra giovani e giovanissimi la situazione è stata normalizzata nel giro di una mezz'ora identificato il titolare del locale che verrà sanzionato ai sensi della normativa covid tutta l'attività verrà portata all'attenzione della prefettura per le valutazioni del caso in ordine alla chiusura del locale e andiamo ora a Monte San Giacomo dove sta per partire il secondo progetto utile alla collettività per ulteriori 10 percettori del reddito di cittadinanza parte il primo agosto lo aveva già annunciato il sindaco di Monte San Giacomo Raffaele Accetta lo scorso giugno all'avvio del primo progetto utile alla collettività che per attivare il secondo non sarebbe passato molto tempo infatti ulteriori 10 percettori del reddito di cittadinanza saranno impiegati a partire dal primo agosto la procedura amministrativa è stata lunga e complessa per i comuni che da queste parti hanno avuto l'ok dal consorzio sociale solo lo scorso 27 novembre quando sono state approvate le linee di indirizzo unitarie nell'ambito S10 dopodiché è stato necessario definire le modalità operative di gestione dei progetti con il centro per l'impiego di sala consilina poi i singoli colloqui con l'assistente sociale Monte San Giacomo di fatto è stato uno dei primi a partire lo scorso giugno impiegando i primi 5 beneficiari e fra qualche giorno parte anche con il secondo progetto per ulteriori 10 complessivamente sarebbero circa 25 percettori del reddito di cittadinanza a Monte San Giacomo 10 saranno esonerati come prevede la legge per limiti di età, fragilità, carico di anziani da assistere o per un basso importo percepito i 15 percettori coinvolti nei due progetti si occuperanno di ambiente e igiene urbana e saranno impegnati per nove mesi ad aiutare il comune nel controllo del territorio e nella cura dei beni comuni con la polizia e la manutenzione del verde pubblico con particolare cura degli ambienti prospicienti le aree di maggiore interesse turistico ricettivo il centro storico, i percorsi naturalistici e le relative staccionate le strade principali di ingresso al comune la polizia e la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici e anche a sala Consiline i percettori del reddito di cittadinanza potranno essere impiegati in lavori di utilità collettiva sono cinque progetti approvati dall'amministrazione comunale lo scorso maggio manutenzione spazio ed edifici comunali aiutiamo il nostro comune noi custodi dello sport accoglienza uffici comunali in sicurezza l'amico della porta accanto i beneficiari potranno svolgere a favore della collettività diverse attività il cui inizio è previsto per la prossima settimana saranno, spiegano dal comune il centro per l'impiego e il consorzio sociale sulla base dei parametri previsti dalla normativa di riferimento a dover fornire all'amministrazione comunale i nominativi dei percettori che dovranno svolgere le attività previste rimaniamo a sala Consilina il piano estate promosso dall'istituto comprensivo di Visciglieti ha voluto puntare sulla sicurezza stradale ieri la conclusione del progetto con la consegna dei diplomini e delle patenti ai piccoli alunni del plesso di località fonti sicurezza stradale rispetto delle regole i bambini imparano i corretti comportamenti da tenere sulla strada l'estate a scuola dei piccoli della scuola di infanzia di località fonti a sala Consilina è stata dedicata ad impartire attraverso il gioco le regole basilari i corretti comportamenti da tenere sulla strada tra balli, canti e simulazioni i piccoli hanno potuto memorizzare alcune regole da tenere sulla strada una prima spolverata sui segnali stradali spiegati dagli stessi bambini che hanno anche illustrato i comportamenti da tenere per ciascuno dei principali segnali sono questi i temi su cui Giovanna De Matteis e Maria Stabile hanno incentrato il progetto denominato Piano Scuola Estate 2021 giocando si impara e si diventa anche ottimi insegnanti consapevoli che i bambini possono anche essere veicoli di corretti comportamenti ed educatori verso i grandi che davanti alle indicazioni dei piccini avvertono un maggiore senso di responsabilità nel dover rispettare le regole suggerite nelle scuole dirette dalla preside Patrizia Pagano si è deciso di dedicare questi giorni di scuola estiva alla sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale con il supporto dell'associazione La Stanza di Gio da anni attiva sul territorio accanto alla scuola anche il comune di Sala Consiline e la Polizia Municipale che nella serata di ieri in occasione della manifestazione conclusiva era presente per consegnare ai piccoli automobilisti la patente di guida speciale e i diplomini in ricordo della speciale iniziativa soddisfatta dell'esito del progetto la dirigente scolastica che ha voluto ringraziare i genitori e i docenti che hanno aderito al progetto e grazie al quale è stato possibile portarlo a termine tra l'entusiasmo generale la manifestazione di ieri ha spiegato la preside ha fatto emergere come i bambini abbiano una capacità di acquisizione dei corretti comportamenti semplificata in grado di accompagnare anche le famiglie verso i corretti comportamenti tanto da poterli definire ausiliari in casa per il rispetto delle regole sulla strada siamo profondamente soddisfatti continua la dirigente scolastica anche perché grazie al piano estate siamo riusciti a far proseguire quei rapporti sociali tra pari mancati in questi difficili mesi di dad l'entusiasmo dei bimbi e delle maestre che con spirito di sacrificio ma anche con grande competenza e gioia hanno continuato a lavorare è motivo di grande orgoglio tutto ciò fa anche capire come quando la scuola offre un servizio in sinergia con enti e agenzie del territorio e si agisce con cuore si possono raggiungere obiettivi ritenuti impossibili portando anche a dare sempre di più l'educazione stradale conclude Patrizia Pagano come altre discipline vanno preparate ed insegnate sin da piccolissimi in quanto competenze sociali da non sottovalutare ieri un incendio si è sviluppato in un fienile a Sala Consilina nelle operazioni di spegnimento impegnati i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme che sono divampate pare a causa di un cortocircuito quindi ad un evento accidentale in un'azienda agricola a fuoco diverse balle e danni anche ad alcuni mezzi agricoli caschi rossi guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno avuto lavoro per ore per spegnere l'incendio e bonificare poi l'aria andiamo avanti un nuovo evento culturale ieri sera a Montesano sulla Marcellana il belvedere di Piazza Castello di Montesano capoluogo è stato intitolato alla poetessa Alda Merini a Montesano sulla Marcellana proseguono gli eventi promossi dall'amministrazione comunale per questo periodo estivo dopo il grande successo registrato domenica scorsa dalla gara automobilistica di Slalom ieri sera si è infatti svolto un altro significativo evento dedicato questa volta al mondo della cultura e in particolare della poesia il belvedere di Piazza Castello in Montesano capoluogo è stato intitolato alla poetessa Alda Merini la cerimonia promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione FIDAPA sezione Montesano Vallo di Diano ha visto la posizione in un'area del belvedere di un leggio commemorativo con una citazione dedicato alla nota poetessa Merini i cui versi ha affermato il sindaco Giuseppe Rinaldi raccolgono l'interesse di tutte le generazioni e destano sempre particolare emozione amare e rischiare di essere rifiutati vivere e rischiare di morire sperare e rischiare di essere delusi provare e rischiare di fallire rischiare è una necessità solo chi osa rischiare è veramente libero questo si legge sul leggio commemorativo apposto ieri sera nel corso della cerimonia svoltasi nel pieno rispetto delle norme anti-covid l'evento ha spiegato ancora il sindaco Rinaldi si inserisce nel più vasto programma di Montesano Borgo della lettura che più volte ci ha visto collaborare con la FIDAPA sempre attenta alla cultura al territorio e alle eccellenze la manifestazione è stata anche caratterizzata dalla celebrazione di una suggestiva cerimonia delle candele naturalmente dedicata alla poetessa della gioia Alda Merini realizzata sempre in collaborazione con la locale sezione della FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari tra i presenti oltre al sindaco e all'assessore Marzia Maniglia l'assessore di Padula Filomena Chiappardo Enrico Tepedino dell'associazione Gio Petrosino e le socie FIDAPA Lucia Giallorenzo ha voluto donare al direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese il suo ultimo libro dal titolo Risvegliare il giorno un volume che è un vero e proprio inno alla vita e che vuole essere un supporto e un aiuto per chi sta affrontando difficili sfide l'autrice ha voluto donare il volume al direttore albanese in segno di complicità vista la condivisione di valori e obiettivi tra il libro e la banca Il libro di Lucia Giallorenzo direttore responsabile di Banca Amica Risvegliare il giorno consegnato al direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese un dono che rispecchia quello che è il valore umano e sociale di una banca da sempre impegnata nel cercare di aiutare soprattutto chi è in difficoltà esattamente come le parole riportate nel libro della giornalista che scritto in periodo di Covid vuole essere un sostegno per chi si trova a dover affrontare delle sfide difficili provocando anche quel senso di svilimento e di abbandono che si rivelano i primi segnali di sconfitta per aiutare a vincere le sfide difficili che la vita ci pone davanti bisogna trovare il sostegno necessario e avere forza e coraggio e determinazione che è possibile trovare nel libro di Lucia Giallorenzo dal titolo emblematico Risvegliare il giorno acquistabile su Amazon un volume che è un credo nella vita nell'amore nella fede una medicina dell'anima per chi ha bisogno di rispondere ad un bisogno di serenità pagine a cui l'autrice si è dedicata nel periodo di chiusura dovuto al Covid e in cui ha riportato la forza che l'ha accompagnata nella sua difficile battaglia per la salute e per la vita che però ha affrontato con grande determinazione e voglia di vivere e di gioire La vita spiega Lucia Giallorenzo è un dono da riscoprire attraverso le piccole gioie quotidiane attingendo alla forza interiore nelle difficoltà e recuperando lo stupore per le tante meraviglie presenti nella realtà La mia testimonianza sottolinea è un messaggio di forza le mie pagine un invito a ritrovare il sorriso con se stessi per poterlo donare agli altri Un libro che segna anche la continuità dei valori condivisi nel lavoro editoriale di Banca Amica le cui pagine sono utili a rafforzare la speranza sostenendo il lettore nella prova attraverso varie riflessioni in un cammino di consapevolezza incentrato sull'amore verso se stessi che conduce a relazioni umane all'insegna dell'autenticità l'infinita pianura di girasoli quindi una strada non accidentata e con fiori tutti orientati al sole e l'immagine della copertina realizzata dal grafico di Banca Amica Maurizio Felicino sono grato a Lucia Giallorenzo ha dichiarato il direttore generale Michele Albanese e mi complimento per il lavoro svolto con la rivista Banca Amica che per numerosi anni ha veicolato i valori profondamente umani e contenuti di una banca vicina alle persone e al territorio il libro contiene anche riflessioni scritte nell'editoriale del periodico di informazione finanziaria sociale e culturale della Banca Monte Bruno Banca Amica Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Eccoci tornati in studio arriva dal forum dei giovani di San Pietro Altanagro il segnale che è arrivata l'ora di ripartire puntando alla socialità e alla compattezza della comunità un segnale di ripartenza che arriva puntando sulla ripresa dopo sette anni di stop dello storico torneo rionale san petrese il torneo di calcio tra contrade prenderà il via il 26 luglio Il forum dei giovani di San Pietro Altanagro riprende le tradizioni e dopo sette anni di stop riparte grazie all'impegno del gruppo guidato da Giovanni Pagliarulo la storica tradizione del torneo rionale san petrese un torneo di calcetto che nel piccolo comune valdianese veniva riproposto annualmente sin dagli anni 90 fino al 2014 anno in cui con la vittoria della contrada piazza si chiuse definitivamente a distanza di sette anni i giovani del forum nell'ambito del progetto protagonismo giovanile sviluppo aria interne ha deciso di riprenderlo inserendolo nel programma di eventi estivi a San Pietro Altanagro si partirà il 26 luglio con le prime gare per concludersi l'8 agosto andando così a diversificare l'offerta di eventi promosse in quest'estate 2021 in segno di ripresa e di speranza per il futuro dopo questi mesi difficili un'iniziativa di colore ed entusiasmo su cui i giovani del forum hanno deciso di ripuntare consapevoli dei successi ottenuti negli anni passati e dell'allegria e della socialità che diffondeva tra la comunità il modo migliore per ripartire e per restituire quella parvenza di normalità ed un'atmosfera di serenità e cordialità tra tutti i san petresi attraverso le gare tra le squadre dei diversi quartieri si trasferirà un segno di compattezza ed unità dell'intera comunità per l'occasione adolescenti giovani adulti anziani si ritroveranno sugli spalti del campo sportivo comunale per tifare ed incitare la propria squadra di appartenenza nell'ambito delle sfide tra contrade lo spirito del torneo rionale è quello di creare aggregazione tra i cittadini che decidono di partecipare e le famiglie creando nuove relazioni amicizie ed eliminando vecchi dissapori le partite la cui durate di 50 minuti si svolgeranno di sera le iscrizioni sono aperte a tutti gli over 17 entro il prossimo 24 luglio è un'iniziativa divertente e coinvolgente spiega il presidente Giovanni Pagliarulo necessaria per la ripresa degli eventi sportivi e sociali del nostro comune consentendoci di dare un segnale deciso di ripartenza a tutta la comunità ma soprattutto ai nostri giovani che avranno finalmente l'occasione di riscoprire il piacere di un'aggregazione sana sportiva e in sicurezza il forum continua Pagliarulo ha già promosso iniziative di coprogettazione tese a valorizzare il patrimonio storico culturale locale in attuazione del progetto protagonismo giovanile sviluppare interne pianificate con l'amministrazione comunale e la Quensen Partner impegnati anche nella progettazione di iniziative turistiche sovracomunali nell'ambito del POC Campania 2014-2020 Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del forum dei giovani Sabato 24 luglio all'Accademia del Cilento appuntamento con l'arte con la mostra fotografica dell'artista Emanuele Stifano nell'ambito di un progetto più ampio ideato dal pittore e scultore Cesare Siboni Una giornata dedicata all'arte prevista all'Accademia del Cilento nel territorio di Bosco di San Giovanni Appiro definita a fucina del pensiero e luogo di bellezza Sabato 24 luglio dalle 18 Emanuele Stifano giovane scultore di Moio della Civitella esporrà nella residenza d'artista del Rifugio del Contadino una mostra fotografica delle sue opere più pregevoli L'evento segue l'esposizione di Carla Passarelli artista di Casalvelino che ha perfezionato la propria formazione sul mosaico antico contemporaneo e sacro confrontandosi nelle più importanti mostre internazionali dedicate al mosaico artistico internazionale L'appuntamento di sabato rappresenta il lancio di un progetto ideato dal pittore e scultore Cesare Siboni nato a Forlì ma cilentano da aduzione L'Accademia del Cilento spiega Siboni è un luogo in cui l'esigenza e la voglia di apprendere di persone di ogni età e genere incontrano il bisogno e la voglia di dare da parte di altre tante donne e uomini eccellenze nel proprio campo creando un confronto da cui ciò che scaturisce attiene alla sfera del libero pensiero attraverso un raffinato spirito critico rendendo la persona un po' più consapevole imparando il linguaggio dell'arte per acquisire in piena coscienza la consapevolezza di appartenere ad una comunità scoprendo infine la propria identità per Siboni l'accademia non è solo un contenitore di laboratori artistici ma anche un presidio civile del territorio per sensibilizzare e proporre eventi culturali toccando tematiche importanti come la salvaguardia dell'arte e del paesaggio Alla prima edizione del Mozzarella Championship 2021 bufale in tavola trionfa il caseificio tenuta a vannulo di Capaccio Pestum Ennesimo riconoscimento per il caseificio tenuta vannulo di Capaccio Pestum l'azienda fondata dal noto imprenditore Antonio Palmieri nominato di recente cavaliere del lavoro ha vinto infatti la prima edizione del Mozzarella Championship 2021 bufale in tavola una sorta di campionato delle migliori mozzarelle dell'estate 2021 organizzato da Luciano Pignataro Wineblog in sinergia con Scatti di Gusto e il patrocinio del consorzio Vini Sagno a comporre la giuria 19 giornalisti specializzati i quali in completo anonimato hanno assaggiato le mozzarelle decretando le graduatorie finali al termine di una maratona iniziata lo scorso settembre con la selezione di 100 caseifici divisi in DOP e non DOP le finali si sono svolte ieri presso Palazzo Petrucce a Napoli dopo che i campioni di mozzarella sono stati acquistati direttamente presso i caseifici degustati in abbinamento ai vini bianchi del Sagno Greco Coda di Volpe Fiano e Falanghina del Sagno DOP nella categoria non DOP trionfo annunciato per la tenuta vannulo da sempre simbolo di eccellenza e massimo termine di paragone per gli esperti della mozzarella di bufala di Pestum in tutto il mondo che in finale ha battuto il caseificio granatore di Palmi l'azienda Don Peppe Diana di Castelvolturno invece al termine di una sfida molto indecisa fino all'ultimo bocconcino ha vinto nella categoria DOP davanti al caseificio Iemma di Battipaia il cui proprietario Lazzaro Iemma tra l'altro è il genero del Cavalier Palmieri marito della primogenita Teresa che ieri ha ritirato l'ambito premio a Napoli a testimonianza che la qualità è un orgoglio di famiglia Siamo giunti al termine del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e buon pomeriggio Grazie per la visione